Buongiorno a tutti, siamo a Palazzo Marino, abbiamo passato qui la notte in Consiglio Comunale a perdere tempo con circa 649 emendamenti da parte di Pidea e Lega che stanno facendo ostruzionismo sulla delibera per quanto riguarda l'addizionale IRPEF. Non siamo ancora riusciti a fare la nostra dichiarazione di voto che speriamo arriverà nel Consiglio di oggi, dato che la seduta di ieri è iniziata alle 16.30 del pomeriggio e è finita questa mattina alle 8. Oggi alle 16.30 inizia un'altra seduta sempre ad oltranza e quindi molto probabilmente passeremo la notte qui anche stasera. Non molliamo, sono metodi dell'Ottocento penso, fare ostruzionismo in questa maniera, siamo nel 2011 e ancora siamo qui con plichi di carta e riunioni che si bloccano per il comportamento dei gruppi. Non molliamo, se ci chiedono tempo noi avremo tempo per discuterli tutti e intanto continuiamo a combattere questo metodo di politica che impoverisce le assemblee istituzionali, quelle pubbliche in questo modo rendendole inutili e al contrario in questo modo privilegia tutte le scelte che avvengono al di fuori dei palazzi pubblici, in questo modo senza trasparenza. Le scelte poi vengono prese nei corridoi, nelle riunioni informali e non nei momenti veri, pubblici come il Consiglio Comunale che diventano delle inutili perdite di tempo. Buongiorno.